Se stai pensando di aprire un negozio in franchising ti voglio dare subito una buona notizia. Il franchising in questi anni è un modello del commercio organizzato che continua a crescere anche in un momento di recessione economica in cui tutto il commercio sta soffrendo. Quindi la domanda è ovvia, ma perché il franchising è un modello vincente? Un modello vincente perché è un modello basato sulla cooperazione, sulla condivisione tra casa madre e affiliato. Quindi è un modello che in questi anni si è sviluppato in modo molto molto importante, specialmente all'estero dove i tassi di penetrazione di questo modello di franchising sono molto ampi e in Italia sta crescendo. Sono Umberto Gonnella, sono il fondatore e CEO di 101 Caffè che è un'azienda leader nei negozi specializzati con il modello del franchising. La mia esperienza in questi anni parlando con tanti imprenditori che arrivano magari da settori diversi o persone che stanno cercando un autoimpiego è che questo modello, il franchising è un modello che funziona, funziona molto bene e ha ampi margini di sviluppo ancora molto molto importanti. Ho pensato così a dei momenti di incontro in cui potete entrare in contatto con questa realtà che è quella del franchising per comprenderne meglio il modello e capire quali sono i veri motivi per cui dovete fare questo passo. Grazie a tutti e vi aspetto per un caffè.